Ciao, bentornati su Creative Bane! Oggi vi faccio vedere un diorama che aspettavo da tantissimo tempo di mostrarvi. Ci sono stati dei tempi tecnici perché è un lavoro per Cosmic Group in collaborazione con Zeta Kit ed Infinite Statue. Infatti, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Allora, vedete i nostri due protagonisti qui stupendi, Stalio e Olio, nella loro fantastica Ford. Bene, questo è un kit che potete comprare tranquillamente nel sito di Infinite Statue, quindi www.infinitestatue.com e potete scegliere la versione kit, come ho fatto io in questo caso, come ho fatto io in questo caso, e farla poi dipingere da chi volete, oppure la versione già dipinta. Allora, questa magistralmente dipinta così è opera di Giuseppe, Giuseppe Venere V4 Paint Passion, se lo volete cercare, ma comunque lo potete trovare anche in tutte le mie storie, in evidenza del mio profilo Instagram e anche Facebook. Quindi, oggi però appunto vi volevo parlare di questa bellissima collaborazione. Dovevo fare un diorama che appunto andasse un pochino a contornare questo splendido prodotto. Allora, cosa ho pensato? Siccome il film è del 1933, film, in realtà dura anche, mi sembra, 17 minuti, quindi vi consiglio anche di recuperarlo su YouTube, è una cosa molto breve, molto chiaramente comica, io ho proprio immaginato, cioè quando mi è stato commissionato, l'ho proprio immaginato dentro una televisione. Quindi la parte difficile in realtà di questo mio lavoro questa volta è stata il restauro di questa bellezza che vedete qui targata nel 1954. Non vi dico come l'ho trovata, cioè nel senso che condizioni era. L'ho restaurata tutta per far sì che lui andasse dentro. Quindi, quindi, adesso ve lo mostro, posiziono dentro. Così vi faccio vedere anche un'altra parte del diorama che amo moltissimo. ed è la parte alla vostra destra. Allora, ecco qua, lui ci va perfettamente. Eccolo. E quindi nel suo, cioè il diorama, vedete, è proprio in questo caso contestualizzato in qualcosa di nuovo, nuovo si fa per dire, ma estremamente bello, cioè ha già un contesto suo e poi scopriremo dove andrà magari questo diorama, quando potrò dirvelo. Questo pezzo è il pezzo dietro che praticamente va a bloccare il tutto e a chiuderlo. Adesso lo vedete così e vedete anche il trapano, ma per quello, dici, non è che deve essere un po' incoglionita, no. E questo, diciamo, sarà la parte dietro. È l'unico pezzo non originale, a parte questa barra, chiara, se la volevamo far vedere, che ho dovuto aggiungere io perché non vi dico qui com'era, poi comunque ho dovuto dare un pochino più di profondità perché questa televisione è molto bella, ma è anche molto poco profonda. Quindi già ho lavorato in misure veramente piccole per il diorama. Allora, io spero che vi sia piaciuto. Voi restate con me per vedere in quale parte dell'Italia, dell'Europa andrà questo diorama e fatemi sapere se i diorani, perché ce ne saranno altri, dentro le tv vi piacciono. Quindi vi aspetto nei commenti e vi mando un bacio enorme. Ciao!